In questi giorni si è tornati a parlare della Polizia di Stato sotto organico ormai da tempo. Che lavoro è stato fatto in Parlamento e quali sono le novità? Ci sono buone novità per la sicurezza delle nostre città e della provincia di Pesorobino, ma buone novità ci sono anche per il commissariato della terza città delle Marche per Fano. Infatti possiamo annunciare a giugno l'arrivo di 13 nuove unità che andranno a rafforzare gli organici della Polizia di Stato. Dieci saranno assegnate alla Questura, due alla Polizia Stradale e una alla Polizia Postale. Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro e all'interlocuzione continue con il Ministero dell'Interno, in particolar modo con il sottosegretario Vanda Ferro, che ringrazio per la disponibilità e la sensibilità, se pensiamo che alla fine dell'anno scorso per la provincia di Pesorobino erano previsti dal Ministero dell'Interno solamente tre arrivi. Ma è stato possibile anche grazie ad una interrogazione parlamentare presentata e mirata proprio sulle criticità del commissariato di Fano. Ma per questi risultati voglio ringraziare anche il prefetto di Pesorobino, Emanuele Agreco, e il questore Francesca Montereale per il lavoro serio e continuo che stanno conducendo. Che cosa risponde a chi sostiene che questo rinforzo non sia sufficiente e ai sindacati che chiedono il rinnovo del contratto collettivo delle forze di sicurezza? Beh, in questi giorni ho ricevuto attacchi dalla Cigelle, la quale evidentemente in questo momento sta scambiando il proprio ruolo sindacale con quello politico. E alla Cigelle ricordo l'eredità che ci è stata lasciata dai governi degli ultimi dieci anni. Se si pensa che su 109.000 unità previsti per legge in organico per la Polizia di Stato, oggi mancano oltre 10.700 unità. Ma il governo Meloni ha cambiato passo in tema di sicurezza per il comparto sicurezza e ha già previsto l'assunzione di oltre 16.800 unità, di cui 13.500 per ricambiare il personale andato in pensione, 3.300 per rafforzare gli organici e per colmare quel gap di organico di cui abbiamo appena parlato. Il governo e la maggioranza hanno previsto inoltre 1,5 miliardi per rinnovo dei contratti nel comparto sicurezza. E mi sembra strano che ciò sia ignorato dai sindacati. Ciò comporterà peraltro un aumento medio lordo di 190 euro al mese per le donne e gli uomini in divisa. Proprio in questi giorni lei ha annunciato anche uno stanzamento importante di risorse per il carcere di Fossombrone. Qual è la finalità? Sì, la finalità è ampliare il carcere di Fossombrone e seguire quei lavori necessari. Ma stiamo lavorando grazie alla filiera istituzionale che parte dal Presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, arriva fino a noi parlamentari del territorio, passando per il Presidente Francesco Acquaroli. Stiamo lavorando anche per i nostri Vigili del Fuoco, ad esempio. Stiamo lavorando per realizzare un nuovo comando provinciale a Pesaro e per rafforzare il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Fano. Per questo devo ringraziare il Sottosegretario Emanuele Prisco. Mi consente inoltre di ringraziare le donne e gli uomini in divisa per il lavoro costante e continuo che svolgono per la tutela di tutti noi e per la tutela delle nostre famiglie. Un grazie veramente di cuore.